un saluto da alfredo iuliano io contrariamente quanti stanno in casa e francamente mi dispiace perché io mi sono trovato qui se mi fossi trovato a san fine anch'io sarei stato costretto a stare nella mia casa del centro storico per fortuna qui è un paradiso letteralmente quindi ci sto spesso di conseguenza mi sono trovato qui quindi sono rimasto qui so fuori coltivo il giardino le patate ieri ho messo i semi dei fiori di zucca insomma diciamo che la mia vita la faccio quasi così come sempre d'altronde una persona della mia età che è anche soggetta ad ammalarsi seriamente qualora il coronavirus mi acchiappi e sepolveda aveva la mia stessa età e di conseguenza è vero che lui è un fumatore io ho smesso di fumare ormai da dieci anni di conseguenza penso un po che i polmoni si siano liberati sebbene io non sia mai stato un grande fumatore più che altro quando tu scrivi fai un mestiere come quello del cronista del giornalista sei portato a concentrarti quando devi scrivere un articolo veloce che deve consegnare in redazione addirittura come accadeva un tempo che realizzavo le radio cronache della della radio per le partite di calcio per avvenimenti di spettacolo di politica di rappresentanza e quindi poi nello stesso tempo dovevo consegnare anche l'articolo al giornale bisognava trovare un telefono di conseguenza mentre vedevi l'avvenimento ti annotavi scrivevi in modo tale che le dieci righe le venti righe la cartella le due cartelle fossero pronte oggi francamente parlare col telefono realmente rilassante non esiste nessun impedimento di conseguenza possiamo parlare di tutto e per chi ha parlato sempre costantemente di avvenimenti che riguardassero l'appunto quello che succede io ho colto la cronaca di tanti avvenimenti che riguardano la società per cui parlare di tutto quello che ho fatto o raccogliere le testimonianze vicino a un immobile decadente che è stato trascurato dagli inquinini o dalla società che lo aveva costruito e poi fittato oppure di fronte a una discarica vicino a un fiume inquinato come quello che poi fu trasmesso da mammarai il fiume della morte o in titorai è stato sempre un dover lo l'ho detto anche ieri si soffrono le notizie bisogna cercarle a volte ti trovi nel pantano nelle paludi coperto di mosche di zanzari insomma succede o addirittura inseguito dalla mafia perché tu hai scoperto un sito di stoccaggio dei rifiuti che non viene in pratica conferito in un'area già che è stata predisposta allo sversamento uno sversatoio di rifiuti ma addirittura dei fiumi e abbiamo trovato persone imprenditori che venivano pagati profumatamente dai comuni che sversavano purtroppo i reflui dell'asfalto insomma i fiumi venivano realmente avvelenati perché se i rifiuti dell'asfalto vengono direttamente veicolati nei fiumi immaginate cosa sia un fiume questo tuttavia ci fa capire che la società italiana al di là del coronavirus potrebbe essere colpita da tante infezioni da tante situazioni anomale io che ho studiato chimica in parte biologia ma sostanzialmente ho capito che la trasformazione stessa dell'ecosistema è anche purtroppo la trasformazione di un vettore che difficilmente potrà ritornare indietro a meno che la società come adesso sia costretta a stare in casa ma per secoli allora ci sarebbe un riequilibrio ma purtroppo le leggi della termodinamica parlano chiaro e dicono che un danno fatto alla natura all'ecosistema è un danno fatto a noi perché poi al di là della 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 ribellione della natura la natura non si ribella si ribellano le leggi con cui il creato ha stabilito un ecosistema che sto guardando che è letteralmente bellissimo una giornata molto calda invece ci sono alberi e querce pini fichi noci c'è di tutto e pensare che dei delinquenti come nel mio paese dalla strada di san fili fino alla crocetta oltre a essere stata disboscata che poi si lamentano mi accusano i disboscatori i disboscatori stanno avvelenando attraverso anche l'uso dei motosega con l'olio che ci perde dalla catena stanno avvelenando praticamente un'aria bellissima che nell'ottocento nel novecento fino al novecento trenta quaranta era costellata da villini da d'aria di parcheggio bellissime da ristoranti per giunta anche ristoranti rinomati dove si fermava anche il passante il pellegrino l'alta borghesia cosentina adesso è finito tutto non c'è rimasto praticamente nulla questa del novecento e questa escursione nel terzo millennio dei primi venti anni delle due decadi ci fa capire che siamo veramente una schifezza di società degli inquinatori di professione allora poi il coronavirus il coronavirus si sta cercando di dargli spiegazioni diverse no dall'originale denuncia stessa del laboratorio di one che aveva così brillantemente e in modo veritiero testimoniato che il virus l'avevano preparato loro come si è espressa la rai nel 2015 parlando proprio della costruzione biologica di un virus di un super virus poi man mano ovviamente la via della seta gli accordi tra italia e cina tra gli altri stati membri di questa falsa unione europea ci accoggiamo soltanto adesso e nel momento in cui i paesi in affanno dal punto di vista economica le presi con una crisi profonda e adesso che verrà di nuovo il cane il cucciolo di nuovo liberato perché deve lavorare per mangiare vedremo serie aziende i piccoli esercizi commerciali i centri commerciali va bene molti sono aiutati anche la situazione che abbiamo denunciato in tutti questi anni riusciranno a riprendere quindi a ridare alla società quello che era prima per fortuna speriamo che questo si serva da lezione ma difficilmente l'uomo riuscirà come diceva dante omo omine lupis l'uomo di fronte al lupo è molto più feroce e cattivo e addirittura omero lo definiva immondo la bestia peggiore forse dante si rifà anche a omero sempre che lo abbia lo abbia letto perché poi come sappiamo è vero o meno c'è stato riportato dagli arabi quando hanno invaso l'italia ma ritorniamo all'aspetto secondario c'è un aspetto primario in questi giorni lasciamo da parte l'inquinamento il lavoro che ho fatto io c'è una lite quasi una disputa una disputa vera e propria altro che quasi tra i medici i sindaci governatori del nord e del sud si contendono non so che cosa visto che in pratica mentre il nord è stato contaminato soprattutto per delle scelte sbagliate nel momento in cui si prospettava una contaminazione di un certo spessore molto significativa sono state giocate partite di serie a quindi c'è stata la contaminazione anche negli stadi nell'antistadio e tutti quei movimenti che caratterizzano l'anteprima di una partita gli allenamenti il calcio è stato devastante se non fosse stato per tommasi che rappresenta il sindacato calciatori e devo dire che anche se i cinque stelle non mi sono per nulla simpatici che il ministro dello sport spadafora si è dimostrato subito disponibile non ha pensato alla propria figura che potesse in qualche modo diventare antipatica nei confronti dell'elettorato sportivo per la chiusura degli stadi è stata una benedizione altrimenti l'infezione la contaminazione sarebbe stata di proporzioni immane praticamente e questo dobbiamo purtroppo ringraziare il rappresentante dell'associazione calciatori Tommasi e questo dimostra che in fondo il nord ha avuto la contaminazione proprio per via di questa situazione e perché è anche presente l'inquinamento perché le industrie non solo inquinano ma come abbiamo capito fanno da nastro trasportatore anche per le infezioni il sud era più al riparo da certi fenomeni di conseguenza eravamo meno vicini anche al vettore stesso del primo contagio ma nonostante ciò il virus si è arrivato è arrivato negli Stati Uniti che è molto più distante dall'Italia dalla Cina almeno sul versante atlantico e adesso ha centinaia e centinaia di migliaia di morti insomma e non sappiamo anche perché Trump solo in alcuni ha delegato ai governatori degli stati americani di adottare una politica di restrizione delle uscite di libertà dei cittadini dentro purtroppo una una macchina molto più complessa dell'Italia pensò che concerne il lavoro lì comandano i privati è totalmente assente la funzione pubblica anche delle attività lavorative e di conseguenza era naturale che l'America ne subisse particolarmente il contagio ma il contagio che riguarda tutto il mondo l'unico stato perché immediatamente ha ritenuto che i tamponi potevano essere lo specchio preciso della contaminazione quindi del contagio della popolazione è stata la Corea del Sud di conseguenza adesso noi cosa facciamo perché la RAI manda o Canale 5 manda una giornalista per raccontare come si svolge il traffico nel traffico una città come Napoli perché la questione riguarda per l'appunto Napoli e la presa di posizione della sanità attraverso dei portavoce addirittura in maschera chirurghi che senza che che senz'altro stanno lavorando e lo fanno in modo appassionato rischiando la propria vita ci sono tante cose che noi apprezziamo ma non apprezziamo che per l'appunto un chirurgo possa mettersi la mascherina per controbattere alla chirurgia del nord ai governatori del nord e c'è una guerra in pratica è nata una guerra fatta di chiacchiere di parole che non conturrà non ci porterà su nessuna pista o terreno di scontro perché resta confinato nell'ambito delle parole oppure il governatore mentre il governo Conte si appresta a dare una certa elasticità alle uscite e alla ripresa del lavoro De Luca dice io metterò ancora di più in quarantena chiuderò le porte della campagna ma tu non sei nessuno e purtroppo tutto questo succede che i governatori lo stesso Stato abbiano di conseguenza lavorato male in questo senso perché non si può precludere la libertà di uscita ai cittadini perché viola e l'ha violato un caposaldo della nostra Costituzione in uno Stato di diritto quindi è banale io penso che bisogna chiamare i cittadini alla responsabilità le persone che nel meridione e ne vedo tante si contaminano tra di loro e perché molti non portano le mascherine e perché li ho visti io in macchina insieme anche qui vicino in campagna non c'è nessun rispetto per le norme che riguardano per appunto il contagio e la pericolosità del coronavirus quindi la disobbedienza, il meneferghismo, il non aver capito che questo è un virus l'abbiamo detto cento volte, killer, che uccide, che non guarda in faccia nessuno e che la medicina e la sanità italiana ha dimostrato di non essere preparata bisogna affrontarli questi problemi così devastanti che segnano la storia di un paese per darsi una regolata, riammodernarsi e poter fronteggiare con una cultura della sofferenza del pronto intervento, del cercare ovviamente di operare in un ambito che prima era del tutto sconosciuto con un virus pericolosissimo, nuovo, il cui contagio ancora non si è capito quali meccanismi stia determinando questa è la situazione allora tra di loro cosa fanno? si attaccano, la sanità di Napoli attacca quella della Lombardia, della Toscana sono eventi ridicoli, non so se lo facciano perché pretendono poi di accaparrarsi i pazienti si sa che purtroppo i pazienti del sud proprio per la cattiva gestione della sanità perché è stata politicizzata, perché è stata affidata a direttori sanitari che praticamente erano l'espressione dei partiti e delle camarille politiche io ho qui un libro di Gianni Rodari, 20 storie più una che parla praticamente, accenna sul comportamento dice perché le persone medici di un certo valore o perlomeno impegnate nella guerra al coronavirus e nel salvare le vite di tanti degenti poi si comportino così nel reclamare la sanità migliore una migliore capacità di affrontare i problemi e quindi dice qui protest dice Gianni Rodari che in una mia vecchia intervista proprio con questo grande poeta e scrittore morto per l'appunto d'altro ieri si ispirò a Gianni Rodari per il modo diretto perché gli piace la favola addirittura seppulve l'ha anche letto Il Corsaro Nero quindi conosceva benissimo anche l'ispiratore di questi romanzi e Rodari grande giornalista, pedagogista, scrittore di libri per l'infanzia ma soprattutto diciamolo per la scuola ha scritto quando uno possiede una qualità straordinaria può comportarsi in due modi o va intorno a vantarsene quindi parliamo i medici che hanno qualità in questo caso vanno in giro a vantarsene per gustare l'ammirazione del pubblico potrebbero essere questi qua in pratica i modi con cui esternano o la tiene nascosta e cerca ovviamente attraverso il lavoro di trarre frutto solo della propria intelligenza e dell'umiltà con cui esegue questo lavoro allora medici ci diamo una regolata o ancora ci sputtaniamo a vicenda ritenendo che lì funziona meglio il sud funzioni meglio rispetto al nord sono cose che ovviamente ci hanno lasciato e volevo chiudere perché ho parlato tanto è probabile e questo è un po' inquietante vedremo poi come andrà a finire solo una mia supposizione che la data di maggio possa servire perché ci sono delle scadenze legislative ci sono scadenze istituzionali quello del rinnovo dei comuni in alcune aree di qualche regione insomma ci sono appuntamenti elettoralistici e se Conte il governo Conte pressato dal partner dai partners di partito come il PD non possono rinunciare all'appuntamento e alla tornata elettorale sarebbe grave perché a questo punto la politica mostra sempre un volto opportunistico dove le sue cose i suoi tornaconti le sue posizioni di rendita la sua voragità viene al primo posto io penso non fosse altro perché il pericolo non è passato che i cittadini debbano uscire responsabilmente con le mascherine e possibilmente anche con i guanti perché i guanti evitano il contagio diretto perché possiamo portarli in faccia quindi contaminarci quindi i guanti per me sono necessari come la mascherina perché alla fine se ci si sta a distanza è meno pericoloso i guanti sono purtroppo fondamentali per evitare il contagio ma stavamo parlando immaginate comunque il casino che può esserci a meno che non si faccia il voto online così le mie figlie una all'università l'altra studia nel liceo di campagna in questo momento studiano attraverso la videoconferenza ho sentito io stesso addirittura una delle sue insegnanti che chiamava l'appello perlomeno cercava di far capire che chi erano gli alunni che in quel momento erano davanti al computer allo smartphone pronti e disponibili alla lezione ma non mi sembra il modo nonostante la scadenza elettorale si mandino i commissari i prefetti che poi non sarebbe male commissariare molti comuni che nello stesso tempo sembrano avere le carte in regola dal punto di vista amministrativo e dei bilanci e forse con i commissariamenti si vedrebbero tutte le magagne e le marachelle che commette la nostra pubblica amministrazione io dico che al momento le tornate elettorali vadano rinviate a settembre ottobre che i comuni ancora non è un mese due mesi tre mesi cinque mesi e sette mesi che possano cambiare la decisione dell'elettorato ci saranno le elezioni ci saranno le candidature dei sindaci quelli dei governatori delle regioni e tutto sommato oggi il popolo ha maggiore consapevolezza anche sul perché è cambiata anche la politica è cambiata anche l'idea di società da parte dell'elettorato che almeno penso personalmente probabilmente ci sarà una svolta potrebbe esserci anche una grande astensione ecco l'astensionismo questa volta potrebbe essere significativo farla da padrone visto che la politica è stata del tutto assente inadeguata e finalmente le camere che parlano abbiamo le due camere Parlamento e Senato della Repubblica fatto solo di parolaie questo ha fatto anche capire che il popolo elege rappresentanti nominati dai partiti che non rappresentano l'Italia che non hanno capacità che siamo praticamente di nuovo in mano alla speranza di un cambiamento epocale per questo io penso che ci sarà un cambiamento dal punto di vista dell'indirizzo della scelta dei cittadini verso i partiti politici verso i sindaci verso gli amministratori questo però potrebbe nello stesso tempo anche fa sì che il governo decida di rinviare magari di un anno di sei mesi perché anche loro capiscono il flop che c'è stato da parte della politica dell'amministrazione che si identificano poi nei livelli istituzionali che sono stati del tutto inadeguati non soltanto in Italia ma noi stiamo pagando soprattutto il fermo totale dei livelli istituzionali e delle istituzioni quando parliamo dei sindacati parliamo del consiglio superiore della magistratura parliamo della corte costituzionale parliamo delle province parliamo delle regioni degli uffici di collocamento delle ASL vecchie ASP questi sono stati del tutto inadeguati quindi l'italiano si è sentito per la prima volta solo e ha realizzato che se non c'è l'Europa in questa fase non c'è stata nemmeno l'Italia anzi l'Italia che conta poco in Europa conta poco pure in Italia un saluto da Alfredo Giuliano e buon sabato